Siamo qui con il regista Riccardo Manfredi, che reduce dallo spettacolo sulle barricate di Parma che andò in scena alla Galleria Sant'Andrea, che si chiamava C'era una volta Parma. Ci parla oggi del suo nuovo progetto. Poche sanno essere fatti. Che andrà in scena invece al castello di Montechiarugolo, sabato sera alle 21. Sì, all'interno del castello di Montechiarugolo, perché il 19 maggio è una data importante per il castello di Montechiarugolo, perché 400 anni fa, il 19 maggio del 1612, a Parma venne decapitato insieme ad altri feudatari Pio Torelli, l'ultimo discendente della famiglia Torelli, proprietario del castello, e venne decapitato da Ranuccio Farnese. Pio Torelli era l'amante della Fata Bema, questa maga indovina, ospite del castello di Montechiarugolo. Ci hanno chiesto di fare questo lavoro come dedica al loro amore infranto, diciamo, e non sarà proprio uno spettacolo, perché sarà una visita guidata, la classica visita guidata, fatta dalla splendida signora Paola, che da 30 anni accompagna le persone, i turisti, all'interno del castello e racconta la storia della Fata Bema. Madame Deliria è una sorta di Fata Bema moderna, diciamo, è questa teatrante maga, una psicomaga, e insieme alle sue ragazze, perché lei ha questa compagnia di danzatrici, raccolte un po' in tutte le parti del mondo, e insieme al collettivo François Villon metteremo insieme appunto questa visita magico-filosofica. A Montechiarugolo nel mese di maggio ci sono delle iniziative, ci saranno mostre, tutte legate alla figura della Fata e della Maga. Ci saranno mostre, concerti, quindi i padroni attuali del castello, i signori Marchi, hanno accolto Madame Deliria appunto come figura parallela a quella della Fata Bema, perché nel 1600 il castello di Montechiarugolo, grazie a Pomponio Torelli, un grande filosofo e drammaturgo, lui aveva trasformato il castello di Montechiarugolo in luogo d'accoglienza per artisti, filosofi, e infatti la Fata Bema, passando come teatrante, girovoga e indovina, rimase a Montechiarugolo. E loro ci ospitano in ricordo di quegli anni, insomma, per festeggiare questi 400 anni. I prossimi progetti per te, per la compagnia? Ma il prossimo progetto è la speranza di poter ripetere le barricate in questo novantesimo anniversario. Chissà, se qualcuno ci vuole ospitare, l'ideale sarebbe farlo proprio nei giorni delle barricate all'inizio di agosto. Sarebbe importante per Parma, anche vista la situazione. Non è solo dei grillini, ci sono ancora i barricadiere a Parma. Grazie.